L'incidente è questa mattina, sabato 30 dicembre, poco prima delle 11, in via Montepiano a Locana. Un pensionato di 80 anni è stato investito dalla sua auto sulla rampa del garage di casa. L'uomo è sceso dalla vettura e probabilmente a causa della strada innevata l'auto si è messa in movimento investendolo. Sul posto sono prontamente intervenuti l'elicottero dei Vigili del Fuoco, i SAF, i Vigili del Fuoco di Livarolo Canavese e Ivrea, l'elisoccorso, il 118 e i Carabinieri. L'uomo è stato liberato dai SAF dell'elicottero dei Vigili del Fuoco con l'aiuto del 118. Il pensionato ha riportato una frattura alla gamba ed è stato elitasportato all'ospedale di Ciriè.